Abbiamo dismesso i panni di una parte politica per abbracciare il problema al diritto alla salute e quindi 46 sindaci ci siamo uniti per sostenere il diritto alla salute. Abbiamo voluto scrivere questa missiva al presidente della regione Abruzzo e per conoscenza anche all'assessore, al prefetto, al presidente dell'Anci, al direttore generale dell'ASL chiedendo loro questa cosa fondamentale, ovvero quali sono le cause che hanno drasticamente rallentato la riflessione dei tamponi. Chiaramente è un problema molto serio quello dei tamponi perché ci sono persone che rimangono a casa e passano 15-20 giorni senza sapere se quel tampone è positivo oppure è negativo. Abbiamo voluto chiedere fortemente quali sono le soluzioni che si vogliono prendere per risolvere questo drammatico problema anche perché è molto più forte da noi quindi ci sono delle parti in cui i tamponi vanno velocemente e sono fatti con velocità. Infine abbiamo voluto chiedere alla regione quali sono gli intendimenti che vogliono portare avanti per trovare queste soluzioni e se è intenzione di eseguire i tamponi seriologici su tutta la popolazione della regione Abruzzo, tamponi seriologici che hanno la possibilità di vedere se nel sangue ci sono gli GG e gli IgM. Quindi veramente questa volta i sindaci si sono uniti per condividere il diritto alla salute, per avere chiarezza e per dare risposte ai cittadini. Non è più il momento di creare divisioni, non è più il momento di creare allarmismo, è più il momento di trovare soluzioni. Troviamo le soluzioni e assieme lo possiamo fare. Quindi ringrazio tutti quanti.